. Ha sconvolto lo spogliatoio della Fiorentina la vigilia della partita con la Lazio. Gli siamo tutti vicini, ha detto Pioli. L'attaccante non aveva dato un forte contributo, finora, alla causa di Ola, ma con i compagni si era integrato i tutti, ora li hanno manifestato grande affetto e vicinanza. . Riguardo alla partita con la Lazio, Pioli è categorico. Quella contro la Lazio è una sfida molto importante, loro sono in grande condizione, ci vorrà quindi la miglior Fiorentina possibile. . Cominciano due mesi decisivi, vale per il campionato come per la Coppa Italia, ogni risultato peserà sulla classifica, ha ribadito il tecnico Veola, dovendo rincorrere bisogna stringere e sperare che chi ci precede perda qualche punto. . Sono in dubbio la FON, reduce da un problema alla caviglia, ed ed iniziano alle prese con qualche acciacco, rovino decisivo domenica mattina. Pioli dovrà allestire una Fiorentina di nuovo forte in difesa e pronta a fare filtro a metà campo, dove la Lazio è fortissima. I Viola cercheranno di sfondare in ripartenza, grazie alle straordinarie doti di chiesa e migliori. . Quanto a Simeone, è molto probabile un suo impiego nella impresa. In avvio giocherà, a quanto pare, Gerson. Probabili formazioni. Fiorentina, 4-3-3, Lafoni, Milenkovic, Pezzella, Vito Rugò, Biraghi, Veinassi, ed iniziano, Veretù, Chiesa, Miurini, Gerson. Allenatore, Pion. Indisponibile. . Squalificati. . . Arbitro, Orsato. . 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